E' il 2008, a una giovane ma non brillante avvocatessa di Brescia viene affidata la riforma dell'istruzione italiana. La protesta esplode. Dall'opposizione di studenti, ricercatori e precari a età dell'istruzione nasce il movimento dell'onda. All'inizio del 2009 a Bologna un gruppo di studenti precari ha un'idea. Occupare uno spazio in via Capodilucca per reclamare reddito e condividere saperi. Tra le mura di un vecchio mulino di proprietà dell'università abbandonato da 7 anni prende vita l'esperienza di Bartleby. Nei mesi successivi le attività e gli incontri culturali e artistici sono tantissimi e lo spazio viene attraversato da migliaia di studenti e precari. Ma l'università non ci sta e il rettore Pierugo Calzolari e la prorettrice Monari mandano la polizia a sgomberare. Anche Bartleby però non ci sta e preferisce di no, rioccupando il vecchio mulino con un grande corteo festante. A settembre si arriva con un altro sgombero e una terza occupazione. Bartleby resiste. Nel frattempo scade il mandato di Pierugo e accorre a scalzarlo il latinista Ivano Dionigi. Come prorettore agli studenti viene nominato Roberto Nicoletti. Ivano non vuole da subito mostrarsi un tiranno e indossa la corona del sovrano illuminato. Apre dunque una trattativa con gli studenti di Bartleby. Risultato? Assegnazione temporanea di uno spazio. Nuovo spazio in via San Petronio Vecchio, in un'ala dello stabile dell'ex Croce Rossa. Un altro spazio dell'università, un altro spazio abbandonato da anni. L'attività di Bartleby riprende e col passare dei mesi e delle stagioni si potenzia. Diventa un importante luogo di incontro, politica, cultura e arte nel panorama bolognese. Dal 2010 al 2012 passano in tanti, dai Luming a Lucarelli a Mastandrea. Le iniziative e i progetti sono tantissimi, sempre aperti, sempre gratuiti. Nasce anche la Common Library e la sua sezione è dedicata alle riviste del Fondo Roberto Roversi. Ma Bartleby non vuole solo vivere tra le proprie quattro mura. Crea spazi di autonomia in università con i laboratori di autoformazione, dove studenti, dottorandi, ricercatori e docenti sperimentano nuove forme di co-ricerca e apprendimento. Si connette alle lotte nazionali, dalla campagna per l'acqua bene comune, all'autogestione di centri per l'arte, la cultura e la ricerca, dai teatri occupati al movimento Notab. Dà vita a reti cittadini per unire le lotte. Con santa insolvenza occupa l'ex cinema arcobaleno in piazza maggiore e ne fa una piazza coperta da riconsegnare alla città. L'esperienza del cinema dura poco e dopo qualche giorno l'arcobaleno viene sgomberato. L'ingresso viene murato e lo stabile è riconsegnato alla polvere. L'occupazione dura però abbastanza per dare vita a nuove realtà. Ivano però tutto questo non lo capisce e non lo vuole e allo scadere della convenzione di via San Petrone Vecchio iniziano le minacce di spratto. Nello stabile dell'ex Croce Rossa ci sono altri progetti. Un grande centro di servizio agli studenti che prevede quasi tutto. Studentato, biblioteca, auditorium. Manca solo una cosa, Bartleby. Eppure ci starebbe così bene. Nel frattempo l'assessore alla cultura Ronchi si dimostra disponibile a cercare una soluzione per Bartleby. Il comune stia lavorando alla questione e si iniziano a pensare a dare spazi alternativi. Poi però dinamiche interne al PD fanno saltare tutto. Di fronte al silenzio se non alle minacce delle istituzioni, Bartleby, cioè noi, non possiamo che restare dove siamo. Indipendentemente dalle dinamiche di potere di questa città, pensiamo di avere ancora molte cose da fare e da dire, molte persone da incontrare, molte realtà con cui confrontarci. L'università e il comune vogliono far sì che tutto questo sia possibile e continui a produrre ricchezza? O vogliono davvero prendersi la responsabilità pubblica di aver ostacolato e chiuso questa esperienza? Uno spazio nel centro della città, che proprio questa città ha offerto e continua ad offrire tanto. Un esperimento avanzato di diffusione del sapere nell'università. Un'esperienza di auto-organizzazione e auto-produzione. Un'esperienza di utilizzare. Un'esperienza di utilizzare. Un'esperienza di utilizzare. Un'esperienza di utilizzare.